Lega Ambiente Abruzzo e Dinamiche Inclusive hanno lanciato e illustrato questa mattina a Pescara due progetti di sostenibilità ambientale che riguardano l'Alto Vastese, importante l'apporto della Regione Abruzzo. Sono rivolti ai giovani, dai 19 ai 30 anni più o meno, residenti sul territorio dell'ente d'ambito 14 Alto Vastese. Sono due progetti che in modo complementare hanno l'obiettivo di valorizzare il territorio ed offrire ai giovani che vivono sul territorio l'opportunità di potervi rimanere partendo proprio dalla valorizzazione dei beni turistici, culturali e ambientali. La sostenibilità ambientale resta prioritaria in un territorio che presenta numerose peculiarità. Sono due progetti per noi importanti perché ci aiutano a costruire dal basso del territorio un percorso di partecipazione su due tematiche importanti. Da un lato la valorizzazione ambientale e dall'altro il tema della digitalizzazione collegato poi a un fenomeno importante soprattutto per la costa dei Trabocchi che è appunto il turismo sostenibile e accessibile. È un ruolo esercitato dalla Lega Ambiente che va nella direzione di accompagnare quella seconda fase di coinvolgimento che è partita dalla costa dei Trabocchi, quindi dalla Via Verde e adesso appunto a mettere a sistema l'intero territorio partendo dai giovani. L'elemento forte è che queste due progettazioni cadono nel mondo della scuola e dei giovani coinvolti appunto nel costruire il nuovo futuro di quel territorio che parla di sostenibilità e di accessibilità.